E' stata avviata una prima bonifica delle spiagge libere della costa licatese. Durante le prime ore della mattinata di sabato alcuni mezzi meccanici hanno fatto la loro comparsa a Marianello, da dove è iniziata la prima tranche di interventi volti a ridare decoro agli arenilli licatesi. E' bene sottolineare come si tratta di lavori svolti dal Comune, che di fatto ha deciso di sostituirsi al Libero Consorzio, ente cui spetterebbe il servizio. Avevamo anticipato che tra scorsi sette giorni ci saremmo sostituiti alla provincia, le parole del primo cittadino. Abbiamo però deciso di abbreviare i tempi a causa del peggioramento delle condizioni, soprattutto nelle spiagge vicine al centro urbano. Mi appello però a tutta la cittadinanza, conclude Cambiano, affinché possa aiutarci a mantenere pulito. L'intervento è stato svolto da un paio di mezzi meccanici cassonati, che hanno raccolto i cannetti fulviali rimasti sulla spiaggia dopo gli ultimi movimenti del salso e i rifiuti di vario genere rimasti sulla sabbia. La seconda spiaggia ad essere interessata da questo genere di lavori dovrebbe essere quella della playa, dove le canne del salso hanno creato un autentico tappeto, che è finito con il limitare le dimensioni dell'Arenil, restringendo quindi lo spazio per i bagnanti. È chiaro che la bonifica di Marianello deve rappresentare solo un punto di partenza. L'estate è ancora molto lunga e a breve è previsto un aumento della popolazione dovuto al rientro per le ferie degli emigrati. Ciò comporterà un aumento di bagnanti sulle spiagge e pertanto si renderà necessaria l'attivazione di un servizio di pulizia costante, in grado di mantenere le spiagge in condizioni accettabili per tutta la durata della bella stagione, in attesa degli interventi del Libero Consorzio di Agrigento, che come si ricorderà ha impegnato una cifra vicina ai 33.000 euro per pulire le spiagge del litorale agrigentino.